L'importante lì rischi di ribaltarti, quindi magari si scelta giù, va giù molto ripida e rischi che se si impunta la ruota ti ribalti e non riesci a fermarti. C'è la rete poi che non ti fa andare giù sulla scappa, poi una volta che hai fatto la curva si va giù piano piano, si rispunta giù e si rifà la salita che noi chiediamo del consacrato. Giù in valle a un certo punto c'è un sentiero di lancemento, quando vai a prendere dalle capuzine, a metà di via la strada lì, quando passi il primo casseggiato, sulla destra c'è un sentiero che ti va su in cemento, quello lì vai su e poi è tutto piatto ancora. Però la cosa attivazione per lui, se fai il 21, con la discesa e i gradoni lì sono, ha giù subito il ripido e se non si impunta... E' freddo? C'è un bel sole questa mattina, va! Aspetta il saluto! Buona cadolata! Ciao, ciao! Bravo! 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 JPلا! Ciao! Eh sì! Facciamo un buon giorno, buon giorno, poi dulliamo tutto. Ci siamo già viaggiati dei giorni con probabilità delle lunghezza che vale la soluzione. Ciao, 10 anni e del tuo? 10 euro e siamo a posto. Grazie, a te, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.